Ma sì, ma chi mi conosce sa bene che è difficile che io possa urlare dalla platea interrompendo chi sta parlando, quindi non solo non è vero, ma ritengo che sia una ricostruzione forzata di un bel dibattito. Io sono molto soddisfatto della giornata di ieri, avere una riunione dei gruppi parlamentari che discutono nel merito delle riforme e questo è l'elemento centrale, non è che c'è una differenza, una differente posizione tra chi vuole o non vuole le riforme, c'è una condivisione sul percorso e si sta discutendo nel merito, cioè su alcuni punti che sono punti nei quali c'è un dibattito all'interno di ogni partito. Sarebbe molto preoccupante se non ci fosse un dibattito nel nostro partito su tutto questo tema, oltretutto, oltre al merito delle questioni rispetto alla elettività o meno del Senato, c'è un'altra questione che mi sembra altrettanto importante, della quale si parla poco ma che io ritengo decisiva, che è quella delle competenze del Senato. Ci sono degli emendamenti di cui si sta discutendo in queste ore, ne cito uno, quello per esempio sulla competenza sul bilancio da parte del Senato, che modifica sostanzialmente l'approccio del Senato, cioè l'idea di passare da un bicameralismo perfetto, qual è quello attuale, ad un altro tipo di bicameralismo. Se invece noi immaginiamo un Senato per il quale non discutiamo delle competenze, non discutiamo della modalità di voto, ma siamo tutti presi dalla corsa contro il tempo per approvare pur che sia un testo di legge, io penso che rischiamo di compiere un errore. Che di questo si discuta all'interno dei partiti e fra i partiti mi sembra che sia un fatto molto positivo, non ritengo che sia un problema e che una discussione in Forza Italia, che mi rendo conto può rappresentare in qualche caso un elemento di novità, ma che venga rappresentata in modo così negativo. Io ho ascoltato ieri numerosi interventi di tanti colleghi, tutti molto positivi, con contributi di merito, senza contrapposizioni, poi ci sono dei giudizi o delle posizioni diverse, ben venga, il dibattito all'interno dei gruppi parlamentari serve per poter individuare poi una sintesi, tant'è che il dibattito proseguirà e martedì probabilmente ci rivedremo per poter approfondire ancora di più questi aspetti. Ma martedì voterete eventualmente? Però non so che cosa, posso tranquillizzare, ma questo lo vedremo in funzione del dibattito, però posso tranquillizzare che io non ho urlato a nessuno dal posto, questo lo posso tranquillizzare, lo posso affermare tranquillamente, quindi eventualmente mi alzerò e dirò quello che penso con le modalità previste da un intervento all'interno dell'assemblea dei gruppi, ma non urlando dal posto.